Il nostro è il top, il partito di freestyle è molto forte, ma è molto forte, ma è molto importante. Alcune è molto forte, ma è un'ombra grande, ma è un'ombra di 30, un veterano, ma è molto importante. Ma il partito olimpico è molto complicato. Questo è il nostro GFOP, ma ultimamente è un'ombra grande, ma è un'ombra che non è importante. Io ho parlato di attraverso il nostro sponso, per promuovere, per avere fondi, per comprare plank, ma non si vede. Ci sono ancora molto difficili. Quindi bisogna essere per poter arrivare in una riemarca, bisogna andare in una zona, perché il team di Ulanda è più facile per poterlo. Però bisogna avere un'altra cosa, se non c'è un'altra cosa, se non c'è un'altra cosa, è veramente difficile per poter arrivare. Se bisogna andare in una zona, bisogna avere competenze, non bisogna avere competenze in un corso. Se è in una zona, bisogna avere un plan di criatura più alto, di mezzo, in un corso. Non bisogna avere un barco, mandare un avion, buscare un hotel, ma non bisogna avere un'altra cosa, ma non bisogna avere un'altra cosa in Miami. E' un'altra cosa difficile per poter arrivare in un corso. Non è impossibile, ma è molto difficile, ma è più facile. Voi con la nostra parte di Ulanda, perché dopo la medaglia di oro di Kiran, quando aveva un'altra cosa, vivendo così, abbiamo ancora un'altra cosa, abbiamo appena sempre ciò più f rais上 l'altro. Poi luca la maniera cuba, non c'è talento, non c'è abbia la capacità, 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 non c'è abbia la capacità. Nella luce è molto dura per competire, per un tempo di competire per classificare il Olimpico, non c'è abbia solo un campionato mondiale. Ora, poi solo siamo in un team di 6-7 ghi, con un avuto, con il dottor, con il bote, con il coach, con il pratis, con un psicologo, sono in un sport psicologo. Nel momento che siamo in un sport psicologo, non c'è abbia la capacità, dopo il pubblico, il pubblico, il sole è un nuovoatore. Non c'è abbia la capacità, non c'è abbia la capacità, ma questo è un buon uso d'evo, però è in un sport psicologo. Non è facile, ma bisogna concentrarci sul freestyle, il freestyle è molto via l'organizzazione, ma è direttamente dal top. E' più facile per avere un plan con biella, abilità con l'organizzazione, ma non c'è tanta l'organizzazione. Però abbiamo bisogno di essere sicuri un'era nuova per la parte dell'Olimpiada, ma se abbiamo l'Olimpiada nel 2024, se abbiamo cominciato, abbiamo l'organizzazione. Il nostro clube è in Holanda, però abbiamo bisogno di fare una cosa speciale, e questo costa un po' di 100. E questo è qualcosa di più. Dentro del deporte, abbiamo una opinione humilde. La mia opinione humilde, nel deporte del buon ero, non c'è bisogno di talento, non c'è bisogno di sentire bene, sentire bene le cose che potrebbero bene, con le relazioni, però non c'è stata una struttura, non c'è bisogno di essere. Tiene talento, non c'è una struttura, non c'è bisogno di essere una buona struttura della gran maggior parte del deporte. E' questa è la mia opinione. all'amanidico, non c'è bisogno di essere una struttura. Grazie a tutti